Ritorniamo in studio per la seconda parte di questa puntata. Come abbiamo detto, trae spunto da grandi appuntamenti mondiali che abbiamo visto, il G7, quello dell'ambiente dove i capi di Stato e di Governo che sono incaricati di tracciare le linee guida dei legislatori per andare incontro alle esigenze di un mondo che cambia e di un ambiente che ha bisogno di essere rispettato. Abbiamo sentito anche che sono tanti i creatori di opinione ai quali ci si può appellare o ai quali si può fare riferimento in questo senso, tra questi Nannovero 1, che è una figura sicuramente altrettanto importante al di là di quelli che siano i propri valori e i propri credo che è il Papa, perché come è noto nella lettera enciclica, laudato sia a posto in primo piano, un tema che già Giovanni Paolo II aveva iniziato ad anticipare, ma in maniera più netta e forte, il rapporto con madre natura. È la cura che bisogna avere per una sorella, dice Papa Francesco, che ci ha dato e alla quale va restituito. Il cambio di approccio non va deturpata e derubata, ma bisogna sicuramente godere di quello che ci concede senza dimenticare che il ciclo deve ripetersi e l'economia circolare è sicuramente un tema molto sentito o di moda, come dicevamo, in questo periodo. Quindi l'ecologia ambientale integrale è il debito che ha l'uomo nei confronti della natura. Allora, con questo approccio che stiamo provando a raccontare, professore, si è colto questo valore, secondo lei? O è perché sta finendo le risorse, come ci diceva, e quindi è una necessità? Diciamo che è una necessità, è una conseguenza. Diciamo che se oggi fossimo nella condizione di non avere né il problema ambientale, né il problema della gestione delle risorse, noi non saremmo qui a discuterne. In realtà questo è un problema che c'è, esiste. Oggi non ci fa tanto male l'ambiente, perché l'ambiente ci farà male tra 10-20 anni, perché cambia, sta cambiando, stiamo notando che sta cambiando anche da noi, in maniera molto forte, ma non ci fa male subito. Mentre oggi quello che ci fa male tantissimo è la gestione della risorsa. Cioè quando noi andiamo a vedere dove sono i nostri pozzi, gas, petrolio, eccetera, e dove sono oggi localizzate le guerre, guardate dove c'è un pozzo c'è una guerra. Cioè non c'è niente da fare, questo è il dato di fatto. E il dato di fatto è perché ci stiamo litigando quel po' di risorse che abbiamo a disposizione, perché le risorse non ci sono per tutti. Cioè c'è una parte del mondo che le può consumare e una parte del mondo che non le può consumare, perché se le consumasse l'altra parte non riuscirebbe a sua volta a consumarle. Oggi è una coperta cortissima, con una società, cioè un'industrializzazione, che sta andando e sta galoppando a una velocità enorme, perché la tecnologia in realtà sta andando a una velocità enorme. Vediamo come sta crescendo la Cina, l'India, eccetera. E sono tutti, come dire, paesi che contengono, diciamo, un terzo del mondo. E questo significa che tra poco questo terzo del mondo consumerà ben molto di più di quanto consumiamo noi. Certamente. Voi considerate che nel 2000... E in modo meno consapevole, almeno le premesse ci dicono questo. Considerate che la Cina oggi, che pure è sotto i riflettori, è il primo paese nel mondo in termini di produzione di energia da fonte rinnovabile. Cioè, non è l'ultimo. Il problema è che sono un miliardo e 300 milioni di persone, quindi consumano un'enormità. Nel 2016 la Cina, in termini di consumi, ha superato la somma dei consumi, dell'Europa e degli Stati Uniti insieme. Cioè, mettiamo insieme l'Europa e gli Stati Uniti, la Cina oggi consuma di più. Ecco, questo significa che il mondo ormai sta trasformandosi molto velocemente. C'è un'enorme quantità di energia che dobbiamo fornire a un mondo che sta crescendo, a meno che non decidiamo che il mondo non debba più crescere. Ma allora questo è un problema economico. E allora possiamo anche discutere della decrescita felice, possiamo discutere di un sacco di cose, ma in realtà siamo in un sistema economico che necessita di crescita. Perché se no, le nostre società che sono fondate sul lavoro si fermerebbero. Ecco, allora, in questa coperta, che è cortissima, dobbiamo necessariamente inserirci un nuovo sistema energetico. Problema. Prima si facevano riferimenti ai grandi del mondo, al Papa, a tante cose, eccetera. Allora, quando c'è stato l'evento di barieghi, i grandi del mondo... La conferenza che ha dettato le misure da adottare, le misure da adottare, eccetera. Alla fine della conferenza, i grandi del mondo hanno fatto un enorme applauso. Io stavo guardando in tv questo applauso, e mi è venuto proprio, mi è andato spontaneo, dicendo, ma questi, a chi stanno applaudendo? Stanno applaudendo a se stessi perché hanno fatto questa decisione, ma prendere la decisione del, signori, dobbiamo ridurre le emissioni, piuttosto che... è quasi semplice per certi aspetti, no? Devi prendere una decisione, non è che mica devi muoverti immediatamente, devi solo prendere una decisione. Poi sono gli altri che devono fare. Esatto, oppure stanno applaudendo a chi deve poi mettersi lo zaino per fare questo percorso. E allora, quando andiamo a fare i piani energetici comunali, io ho fatto 55 piani energetici in tutta la regione Emilia-Romagna, 35 sono in provincia di Bologna, quello che si vede è che il 60-70% dei consumi sono le nostre case e le nostre auto. Certo. Noi facciamo il sistema energetico, quindi se noi non cambiamo, se le nostre famiglie non cambiano, se noi non cambiamo l'automobile, questa transizione non si può fare. Allora, il punto è, nell'ambito del G7 dell'ambiente, visto che lei ha citato la Cina, proprio mi chiama fuori il cuore, perché la pianura padana a livello di inquinamento è paragonata per una serie di fattori morfologici, di vocazione produttiva, eccetera, a un inquinamento come quello di Pechino e della Cina. e questo viene pubblicato sui giornali non italiani, in Italia passa un po' marginalmente. Cosa succede? Che il G7 dell'ambiente sarà quel momento in cui le regioni che affacciano sulla pianura padana sigleranno di nuovo, quindi forse si vedranno anche applausi, un'intesa che dirà che le misure devono essere adottate in maniera conforme, diversamente, se io faccio un po' di meno, tu fai un po' di più, l'effetto non sarà raggiunto. Ci deve dare speranza o sono solo chiacchiere? È inevitabile. Cioè non è che ci deve dare speranza, è l'unica strada possibile che abbiamo. Il problema è che, come si diceva prima, è portare la gente all'interno del cambiamento. Allora noi abbiamo, cioè quando noi parliamo da un punto di vista etico, siamo tutti d'accordo. Bisognerebbe avere un mondo migliore, dobbiamo essere tutti felici, tutti con le risorse, eccetera, siamo tutti d'accordo. Nel momento in cui dobbiamo fare delle azioni verso questa direzione qua, viene fuori quello che si chiama l'homo economicus, cioè le faccio a patto che ci sia una convenienza, se no perché le devo fare. Mele, c'è la convenienza? Stavo proprio cercando di intervenire, cercando di allacciarmi al professore, perché la... Dai due punti di vista, da chi ci fa imprese e da chi deve diventare fornitore. E' molto fine e sottile il passaggio tra etica e profitto, perché noi sicuramente non siamo una società che è qui per fare solo etica, quindi siamo una società che giustamente deve mantenersi con dei profitti. Il problema è la mancanza di educazione, che quando io mi approccio al commerciale, e chi è dall'altra parte non capisce che c'è qualche cosa che va oltre il profitto. Quindi io sto cercando di offrirti anche un servizio, ti sto insegnando che nel tuo contesto, come diceva il professore, noi dobbiamo iniziare dalle nostre case, dalla nostra macchina, dal nostro garage, ma anche le aziende. Noi ci stiamo approcciando alle aziende. Abbiamo fatto delle sostituzioni in aziende anche importanti nell'ambito bolognese, ma credo di essere autorizzato a parlare di Samp, del gruppo Maccaferri. Con loro abbiamo avuto un percorso che è durato quasi due anni, perché dovevamo, e qui abbiamo coinvolto anche le forze giovani, anzi io mi scuso di aver rubato allo spettacolo delle forze così promettenti, però abbiamo... Ma la sua è una scelta etica. La sua è stata una scelta etica e a noi ha portato grandissimo beneficio anche in termini di spinta e di voglia, perché noi contiamo molto su questo, contiamo che i giovani, e credo che il professore sia d'accordo con me, capiscano che devono imparare un'educazione che noi non gli abbiamo dato, le vecchie generazioni hanno rubato, hanno portato via tante cose e adesso loro ci devono tornare, devono tornare indietro e ricominciare anche dalle piccole cose. Facevo menzione quando a mio figlio a scuola insegnavano che doveva spegnere l'acqua quando si lavava i denti e ad oggi che ha 28 anni lo fa. Quindi noi dobbiamo iniziare da questi piccoli gesti che noi consideravamo superflui e invece sono importanti. E quindi anche andare a sostituire una lampadina a LED. Noi stiamo facendo di tutto per andare in Cina, portarla qua a dei prezzi competitivi. Andiamo anche tramite la Meri, abbiamo fondato dei gruppi d'acquisto dove i loro associati abbiano possibilità di comprare e acquistare dei prodotti di qualità, dei prezzi competitivi. Ma certo che la lampadina a LED costa un po' di più della lampadina tradizionale. Ma ci dobbiamo abituare che lo stiamo facendo per qualcosa. È un investimento sul futuro. Assolutamente. Ma la speranza, secondo me, c'è. Perché anche vedendo ciò che è successo con la raccolta differenziata, ad esempio, che prima all'inizio è stata accolta anche con un certo scetticismo, ma non finisce tutto nella seduta di scarica. Questa è la diceria, ovviamente, per sforzare coloro che ci credono. Esatto. La giustificazione. Sì, sì, anche l'alibi per chi non lo fa. Abbiamo molti alibi. Ci diamo molti alibi per non fare. Assolutamente. Però, insomma, credendoci... Credendoci, soprattutto... Lei prima mi diceva che le resistenze ci sono, perché poi quando ci si approccia a queste cose funziona, va bene, fa male. Adesso insieme agli alibi mettiamo le resistenze che si trasformano in... È importante abbattere i cliché, secondo me. Quelli che sono i cliché con l'informazione, che anche quando ne parlavamo prima, è l'unica cura che può esserci, diciamo, per poter applicare un cambiamento. E l'informazione si fa attraverso i media, si fa attraverso... Esatto. Siamo qui, apposta. Si fa attraverso degli eventi, degli eventi che possono avere anche finalità secondarie, però che comunque trasmettono un messaggio che è quello di sensibilizzare le persone a questo tema. Oppure creare delle facilitazioni. Assolutamente sì. Perché la comunità serve anche a questo. perché i produttori di danno e di inquinamento sono abitudini che ci riguardano tutti, perché il vivere in un'abitazione che non abbia un impatto corretto e l'utilizzo dell'automobile direi che si possano applicare a chiunque. Quindi le problematiche sono le stesse per tutti. Se c'è chi ti facilita nel trovare una via d'uscita... Assolutamente. Infatti il nostro obiettivo sono proprio le famiglie, cercare di portare educazione alle famiglie, e non solo. Noi cerchiamo anche di portare educazione a quelli che saranno i futuri cittadini, quindi i bambini, portando didattica nelle scuole, quindi facendo vedere quello che bene o male è il giusto percorso. Cosa li colpisce di più? I bambini? L'ambiente. L'ambiente, la possibilità di avere comunque intorno a sé un ambiente sano, pulito. Questo è quello che bene o male. Poi chiaramente il metodo anche di insegnamento. Noi spesso mettiamo a confronto quello che è il mondo delle api, che è la classica società perfetta che utilizza le risorse nel sole per costruire la loro città, mettendola a confronto con la città dell'uomo. È chiaro che prima o poi una delle due società, e quasi sempre è quella dell'uomo, che continuano a sfruttare quelle che sono le risorse fossili, prima o poi ha dei problemi, perché le risorse fossili bene o male tendono a finire. Ma questo però porta, e mettendo proprio a confronto si vede, la cosa bella è che porta proprio la discussione anche all'interno delle classi, che l'utilizzo delle risorse fossili porta poi inquinamento e quindi mette in crisi anche la società delle api. La curiosità dei bambini e la capacità di mettersi in discussione, di capire qual è effettivamente lo scopo di quell'insegnamento, è fantastica. Attacca molto di più ai bambini e quindi proprio l'obiettivo è quello di portarli a capire quello che deve essere il giusto percorso per poi formare la famiglia stessa. Ah, perché certo, parte dal bambino che sgrida le cattive abitudini Assolutamente, sì. La cosa divertente è che il bambino nella sua ingenuità, perché poi il bambino è ingenuo da questo punto di vista, dice ma è chiaro che bisogna partire dal sole e come fanno le api bisogna ripartire da lì. Il problema è farlo capire ai grandi. Che non è facile. Che non è facile. Per il bambino è ovvio. Dice vabbè ma se c'è il sole allora ripartiamo da lì. E questo è il vero problema anche nelle comunità solari, cioè far capire agli adulti qual è il percorso da fare. Spesso per esempio, il classico esempio è quello dei trasporti. L'auto elettrica oggi è fruibile per chiunque. Il problema è che noi ci siamo creati tutta una serie di luoghi comuni che ci impediscono di andare in quella direzione lì. L'autonomia, il costo, le colonnine, questo e quell'altro. Allora noi abbiamo creato, adesso Marinella può raccontarlo, quello che è un progetto proprio legato che si chiama Charge & Go, che è legato proprio al fatto di far condividere la colonnina dalla comunità. Cioè costruiamo una colonnina attraverso la comunità. Certo il comune la potrebbe pagare da solo la colonnina, potrebbe farsela da solo. Noi invece diciamo oggi attraverso i commercianti creiamo la colonnina comunale, ma della comunità. E poi magari ci facciamo una lotteria gratuita dove possiamo vincere, non so, una settimana, due settimane, un mese di noleggio gratuito di un'auto elettrica, ma una vera auto, proprio un'auto, in modo tale che le persone possano portare questa auto nella loro quotidianità e capire che in realtà è già fruibile, si può già fare. E anche i costi, oggi ci sono offerte della comunità solare che ti permettono veramente di essere molto competitivo sui costi dell'automobile. Il vero problema è che, come dico sempre, chiudo, nel 1917, quando Ford è uscito con l'automobile, c'era da fare una scelta, o il cavallo, o l'automobile. Era una scelta banale. Cioè, tutti hanno scelto l'automobile, sono state vendute 5 milioni di automobili in un anno, non c'erano le strade, non c'erano le autostrade, non c'erano le pompe di benzina, non c'era niente, no? Eppure la gente sceglieva l'automobile e costava l'equivalente di 30 mila euro di oggi. La gente sceglieva l'automobile. Oggi, quando io faccio vedere la mia auto elettrica con il suo corrispondente modello benzina di Ise e dico quali sono le differenze, la gente le guarda e dice nessuno. Non ci sono differenze. Oggi è difficile fare una scelta quando non ci sono differenze. Stavo poc'anzi citando proprio con la parte degli ospiti che era già arrivato in studio come questo è già il passato. Se andiamo a vedere come, e dicevamo al MIT di Boston, ci siano prototipi di sharing, di condivisione e oltre che idee e progetti che dimostrano, partendo dal presupposto che l'automobile di cui nessuno pensa di poter fare a meno è utilizzata nella nostra giornata per il 20% del suo potenziale che significa che si fa un tragitto, si lascia ad occupare posto nelle città già piene di confusione, insomma il problema dei parcheggi e la fruibilità dello spazio cittadino per poi fare un altro tragitto magari tornando a casa. Certo, non parliamo delle categorie che sull'auto lavorano, questo è implicito. E quindi cosa significa? Che condivisione, mezzi di un certo tipo, mezzi che possono passare di mano da una persona all'altra già snellisce ed è il passaggio successivo. Quindi noi parliamo ma volendo saremo già anche molto oltre. Stamattina eravamo, parlavamo proprio di noleggio di automobili elettriche perché stavamo facendo la cosa e il vero problema è il noleggio. Cioè non è l'automobile, il vero problema è entrare nell'idea del noleggio. Perché non è più di mia proprietà, è di proprietà di un altro, però io la condivido. Questo concetto del noleggio per noi è un qualcosa che... Siamo tutti un po' figli unici da così. Sì, è vero. È un problema molto serio anche noi abbiamo, è un problema molto culturale però. Certo. Pochi secondi. Una grossa pigrizia mentale a fare i cambiamenti. Noi lo riscontriamo anche nella distribuzione di quello che è l'illuminazione a led. Riusciamo a entrare nell'attenzione quando il cliente capisce che si risparmia 50-60%. Il fattore costo è la motivazione più significativa. Quello sottrae subito, però non pensa che poi questa lampada durerà di più, lo smaltimento non avrà problemi, non ha consumo di CO2, non ci sono gli oduri metali, o altre cose perché è un'energia pulita e questo è un investimento col tempo. Cioè, noi non investiamo nel tempo. E con informazione. Perché noi tutto deve essere adesso. Perché io la spendo adesso perché mi deve tornare in casa adesso. Certo. Non è un mio investimento perché la generazione futura poi ci penseranno loro. Poi lasciamo in carico dei bei bagagli. Allora, dopo parliamo di questa sperimentazione, tiriamo anche e le conclusioni tra pochissimo. di questa sperimentazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.